Amici di Player Inside, oggi siamo qui con una nuova top che in realtà, voi lo sapete, noi gestiamo le top a miniserie Questa qua è la seconda puntata della miniserie di top relative ai giochi che non si possono finire Esatto, cioè non giochi troppo difficili, quindi magari non tutti riescono a finirli, proprio nessuno può finirli Per motivi Per vari motivi, adesso ne vediamo un po' Gladiator era un gioco a scorrimento laterale arcade del 1986, uscito anche su ZX Spectrum, Amstrad, CPC e Commodore 64 Col titolo meno originale di Great Gurianos La versione ZX Spectrum aveva una memoria inferiore e quindi lo sviluppatore David Perry fu costretto a tagliare qualcosa per riuscire a realizzare il porting E quale migliore cosa da tagliare in un videogioco se non il finale? Sì, il finale fu tagliato via e per non farlo notare ai videogiocatori lo sviluppatore pensò di rendere il boss finale totalmente invincibile Non nel senso che fosse molto arduo da battere, era proprio impossibile sconfiggerlo Questa posizione della top l'abbiamo trattata anche nel video Le 101 curiosità che forse non sai dei videogiochi Che è un video che fa molto 2016 Quando andavano le top Però noi ne facciamo uno l'anno da sempre Ve lo linkiamo qui da qualche parte se per caso non l'aveste già visto Perché ci sono molte altre posizioni, insomma, questa qua è ripetuta, vabbè, però ce ne sono tante altre Quindi andatevelo a recuperare perché vi arricchite culturalmente, forse X-Men per Sega Genesis includeva una sorta di enigma che mandò in confusione molti possessori del gioco A un certo punto la missione ordinava di resettare subito il computer Non si dovevano cercare computer in giro per il gioco Ma era necessario premere letteralmente il pulsante reset della propria console brevemente E questo era l'unico modo per proseguire a livello successivo Un po' strano, ma fin qui funziona tutto Il gioco però uscì anche su Nomad, una sorta di versione portatile del Sega Genesis Che però non era provvisto di alcun tasto reset Cosa che impediva del tutto di finire il gioco Che cosa vi è venuto in mente? Una cosa stupida, cioè potrebbe essere una cosa alla... 7000 tasti andate a prendere reset Metal Gear Solid 2 Ma te che... In cui dovevi togliere il controller Ma no, ma no, no, questa è una c***a C'è da specificare che non si trattava di un porting per Nomad Era la stessa cartuccia che veniva letta anche dal Nomad Esatto, il Nomad permetteva di leggere le cartucce del Genesis Che era il Sega Mega Drive in versione americana In maniera tale da renderlo portatile È una cosa molto artificiosa Tra l'altro un dispendio di batterie eccezionale E poi tra l'altro anche lo slot era enorme Perché le cartucce non erano proprio riadattate Come oggi abbiamo le cartucce per le console portatili molto piccole Erano le stesse cartucce del Genesis Una cosa simile a X-Men per Mega Drive riguardava Simon the Sorcerer 3D per PC Non certo uno dei migliori capitoli della serie Anzi, potremmo dire forse il peggiore Il problema di questa avventura grafica era l'ultimo enigma Che richiedeva di aprire il lettore CD del proprio PC Il gioco era in grado di riconoscere l'apertura del lettore disco E farvi quindi arrivare alla fine Ma solo con una certa configurazione PC Chiunque avesse una configurazione differente O anche solo una versione aggiornata di Windows Non avrebbe potuto completare il gioco Avrei evitato di inserire la risoluzione di un enigma Nell'apertura di un disco dell'hardware Sai cos'è? Sai cos'è? Questo è molto simile al discorso di prima del Nomad Si Questo si fa Si arriva a questo Quando si cerca di essere talmente originali Da risultare minchioni Esatto Questa è una cosa A volte non sono solo i giochi a non poter essere portati a termine Ma anche le espansioni Mac Warrior 2 31st Century Combat del 1995 Aveva due espansioni La seconda dal titolo Mercenaries Non poteva essere completata Perché ad un certo punto bisognava raggiungere una navetta Che però non riusciva ad atterrare a causa di un glitch L'unico modo per andare avanti quindi era ricorrere ai cheat Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Bubble Bubble Revolution per DS Che a causa di un glitch che impediva il completamento Fu ritirato dai negozi Una cosa molto simile capitò a SNK vs Capcom Card Fighters Clash Sempre per DS nella sua versione nordamericana Un bug non faceva apparire un personaggio chiamato John A cui si doveva parlare per far progredire la storia Non avendo la possibilità di patchare il gioco SNK decise di ritirarlo e inviare nuove copie Sia ai negozi che a chi lo avesse già acquistato Smash TV è uno sparatutto arcade a due joystick del 1990 sviluppato da Eugene Jarvis Già autore di Robotron 2084 Si tratta di una sorta di predecessore spirituale di Total Carnage uscito nel 1992 Il gioco menzionava che per arrivare al vero finale Bisognava giungere ad una zona chiamata Pleasure Dome E per farlo bisognava collezionare delle chiavi all'interno del gioco In realtà però non c'era nessun Pleasure Dome Si potevano collezionare tutte le chiavi del mondo Ma rimaneva impossibile finire il gioco Questo perché gli sviluppatori erano certi che i giocatori non sarebbero stati in grado di arrivare alla fine Ovviamente così non fu Infatti molti si lamentarono E la Williams dovette pubblicare una nuova versione Con incluso il famigerato Pleasure Dome Ecco, la scarsa fiducia nelle abilità dei videogiocatori da parte degli sviluppatori Questo però ragazzi dobbiamo contestualizzarlo Si tratta di un gioco arcade Quindi non è che ci fossero i salvataggi Comunque dovevate ricominciare ogni volta dall'inizio Ma che vuol dire? Ci sono dei fenomeni là fuori Che finiscono Morrowind in un nano settore Sono d'accordo Però magari posso capire perché all'epoca Insomma si sottovalutasse Si tendesse a sottovalutare l'abilità dei videogiocatori Ed è sempre sbagliato È un po' come quando su YouTube si sottovaluta il proprio pubblico E poi ti sorprende con dei commenti eccezionali Come per esempio Primo E lì tu dici Caspita Last Ninja 3 era un classico gioco action per Commodore 64 Che all'epoca della sua uscita poteva tranquillamente essere portato a termine E in questa lista però parliamo della sua versione inclusa nella virtual console per Wii In Nord America e Europa Subito dopo il primo livello infatti A causa di un bug Il gioco si frizzava irrimediabilmente Impedendo quindi a chiunque lo avesse acquistato di portarlo a termine Il gioco fu quindi totalmente rimosso dalla virtual console e mai più reinserito nel servizio Aggiustarlo con un aggiornamento no eh Akira è uno degli anime più belli di sempre Un classico che avrebbe potuto godere di un porting videoludico altrettanto bello Vista la grande quantità di azione presente nell'anime Avrete sicuramente già capito che le cose non sono andate così Nella versione amiga del videogioco Akira infatti Il primo stage sulla moto è talmente difficile da risultare non completabile Tanto che tutti i giocatori dell'epoca compresi i recensori Furono costretti a utilizzare i cheat per poter proseguire Questa puntata è dedicata a tutti quelli che pensassero Che oggi i videogiochi sono messi molto peggio di prima Ragazzi Prima la merda ce la mangiavamo Tranquillamente Era buona, era cioccolata per noi Oppure semplicemente il gioco ce l'aveva comprato il paparino a Natale Ed era l'unico gioco dell'anno Ci doveva piacere perché non c'era modo di cambiarlo O rivenderlo su ebay Madde che Per cui c'era molta più tolleranza Oggigiorno invece c'è un'intolleranza spaventosa Ma è anche vero che certi sviluppatori Curano poco il lancio dei giochi E questo lo sappiamo Però non siamo a questi livelli Non siamo a questi livelli Cose del genere sarebbero impossibili nell'era di internet Ma è giusto così? Cioè tu non mi puoi vendere un gioco impossibile da finire? Assurdo Esatto Anzi ci saremmo aspettati nel 2020 ormai Che tutte queste situazioni venissero meno E invece tutto sommato ci sono Solo che si rimediano con le pace Ma almeno si rimediano con le pace Se non avete visto ragazzi l'altra puntata relativa a questo argomento Vi invitiamo a guardarla Quindi se siete interessati vi mettiamo il link qui in scheda Esatto Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima Dal vicolo dei drogati è tutto Alla prossima, ciao